Dylan Dog 426, la morte in palio, un chiaro omaggio al numero 66, partita con la morte. Wabalabadab e bentornati su No Mamamazzo e bentornati in questo primo video di marzo, mese completamente dedicato al Cavaliero Oscuro, alla DC Comics. Mi sarebbe piaciuto parlare del crossover tra Batman e Dylan Dog, però purtroppo di quello non posso parlare, quindi parleremo solo di Dylan Dog della serie regolare e poi sappiate che il 10 marzo, sempre a tema Bonelli, dovrebbe uscire anche il crossover tra Zagor e Flash, dato che si parla anche di DC Comics. Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che amano Dylan Dog e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo numero. Se vi è piaciuto o se non vi è piaciuto, se avete letto anche Partita con la Morte o se siete nuovi a questa esperienza. Seguitemi anche sugli altri miei social tra cui Instagram e Twitch, su cui faccio appunto altro oltre a qui, quindi se mi seguite riuscite a rimanere aggiornati. Dylan Dog 426 di Rita Porretto e Silvia Mericone, che abbiamo visto di recente in una delle due storie dell'Old Boy. di queste due storie che tra l'altro mi erano piaciute entrambi, eventualmente andate a recuperare il mio ultimo video sull'Old Boy oppure ve lo metto qua in descrizione. La storia della Porretto e dell'Americone in realtà era una sorta di terzo capitolo di una loro trilogia che a me aveva entusiasmato, che mi era piaciuta molto. Qua invece si lanciano nella serie regolare citando apertamente Partita con la Morte e citando apertamente anche il loro lavoro di sceneggiatrici, di coppia di sceneggiatrici, ovvero di sceneggiatrici che lavorano a quattro mani. Io ci ho visto un po' anche questo nel ruolo, nel doppio ruolo di Ruth e Sandra. L'ho visto un po' come una sorta di, non lo so, autocitazione. Il fatto che sono due sceneggiatrici, anche la Porretto e l'Americone, ci ho visto questa cosa, no? Anche se poi il finale mi ha un po' smentito, ma andiamo per gradi. I disegni invece sono di Armitano e devo dire che mi sono piaciuti molto, hanno saputo rendere benissimo l'omaggio ai disegni di Roy di Partita con la Morte. Non mi sono nemmeno dispiaciuti i vari flashback che si capisce benissimo che sono flashback appunto grazie a questo gioco di Scala di Grigi dove è tutto molto patinato, tutto molto nebbioso appunto, come se i ricordi fossero un po' annebbiati. Tutto questo a livello grafico il numero mi ha entusiasmato tantissimo. Per non parlare dei volti delle protagoniste, su tutte, Sandra che è disegnata da Dio, la adoro come hanno disegnato quella sua smorfia, quel suo sorrisetto, quel suo taglio di capelli da Bryce Dallas Howard in Jurassic World 1. Ecco, mi è piaciuto molto tutto l'insieme, oltre a Dylan è disegnato da Dio, mi è piaciuto un sacco. La morte in palio racconta di questa ragazza, Ruth, che ha chiaramente dei problemi con l'alcol, lo vediamo dalla prima vignetta in cui ha cercato di svuotare, ha svuotato nel lavandino una bottiglia di Jack Daniels. C'è un omaggio al quadro che si cita all'inizio, che poi ha ispirato anche un film, che poi ha ispirato anche partita con la morte, che poi ha ispirato anche la morte in palio. Vediamo che questa Ruth ha abbandonato il computer, ha abbandonato la bottiglia, e si sta buttando da un ponte e sembra quasi che venga salvata da questo angelo custode, che pare essere appunto Sandra, quella che poi diventerà la sua futura collaboratrice, credo. Poi c'è un... non si capisce se tra pagina 8 e pagina 9 c'è un timelapse, ovvero se qua è stato il primo incontro tra Sandra e Ruth, e a pagina 9 invece vediamo il tempo presente, in cui fondamentalmente finisce il rapporto tra Sandra e Ruth, perché pare che Sandra sia stata coinvolta in un incidente che ha a che fare con una pistola. Pare, si vede poi nei flashback, che Sandra si sia sparata accidentalmente a bruciapelo, però ovviamente la colpa sta ricadendo su Ruth, che è la prima indiziata di tentato omicidio di Sandra. Scopriamo anche che Ruth è un'amica, una vecchia amica di D-Landog, quando D-Landog beveva ancora. Ecco, qua iniziano le cose a non essere molto chiare per me a livello di continuity, ma non ci voglio dare troppo peso. È chiaramente un numero scritto post ciclo 666, e di questo ne sono molto entusiasta. Lo scopriamo anche dalla tavola in cui l'ispettore... scusate, Block è chiaramente il sovrintendente, anche perché se mi passate il francesismo apre il culo in due a Carpenter, per come stanno conducendo le indagini. Ed è chiaro come ci sia una citazione anche a questo D-Land che prima beveva, e ci sta anche il rapporto tra D-Land e Ragna, che è davvero molto... non lo so come posso dire... è molto... è pieno di attrito, ecco. E si capisce che quando c'è di mezzo il passato di D-Land, una bella donna, la sua ex moglie Ragna, ovviamente è molto arrabbiata. Ciononostante, io credevo che D-Land avesse iniziato a bere durante il ciclo 666, però non c'è... cioè, è una mia supposizione. Poteva benissimo essere già un alcolista, già un bevitore anche prima, noi lo vediamo semplicemente bere sempre di più durante il ciclo 666, quindi nulla ci vieta di pensare che prima, quando era un Bobby a Scotland Yard, bevesse comunque. Dunque, ipotizzo io che il passato di D-Land con Ruth sia quando era un Bobby di Scotland Yard, perché appunto non ha la barba, non è chiaramente un custode del cimitero a Inverness, però è comunque vestito con la camicia rossa e la giacca nera, però chiaramente se non è in servizio non è che si deve vestire in divisa, ovviamente. Di conseguenza ho incastonato io un po' il passato di D-Land Ruth pre-ciclo 666, come se fosse una sorta di numero 401 barra 0, ecco. Non so se vi ricordate che una volta nel numero 406 dissi questo ciclo 666 è molto carino, ma non sarebbe stato male se ci fosse stato un altro numero, un settimo numero. Questo secondo me potrebbe essere tranquillamente un settimo numero, sia perché è palesemente appunto post-ciclo 666, ma anche perché esattamente come il ciclo 666 citava i primi numeri di D-Land Dog, quindi il numero 1 e 2 citavano l'1, il numero 3 citava il 2 e il 3, il numero 4 citava il 4, il numero 5 citava il 5, il numero 6 citava il 6, eccetera, eccetera. Insomma, questo numero cita il 66, chiaramente, però, segue un po' lo stile del soft reboot iniziato da Recchioni nel ciclo 666. E devo dire che la cosa non mi dispiace, chiaramente ribalta un po' alcuni alcuni stilemi del numero 66 che era un po' più lineare per quanto possa essere lineare un numero surreale come il numero 66. Qua, diciamo, a quello che già abbiamo visto nel numero 66, oltre ad averlo modernizzato ai tempi nostri, alle inquadrature nostre, ai tagli grafici attuali, c'è anche l'aggiunta, appunto, di questo personaggio duplice che è, che è appunto Sandra, questa controparte di Ruth che poi si scoprirà non essere altro che un parto della fervida immaginazione da sceneggiatrice di Sandra. Una sorta di personalità, una sorta di Mr. Hyde che Sandra ha creato perché si sentiva inadeguata, perché aveva un complesso dell'impostore, quindi di non sentirsi all'altezza del suo lavoro, della sua creatività, dettato appunto da come è stata cresciuta dalla madre, che l'ha sempre denigrata, l'ha sempre sminuita. Non so se questo numero è un accatarsi delle due sceneggiatrici su quello che uno sceneggiatore può aver passato o loro stesse possono aver passato nella loro esperienza, spero per loro di no, ma in ogni caso voglio farvi capire che ho percepito questa cosa, mi è piaciuto molto questo scrivere in un certo senso di sé, in un certo senso aver scritto quello che si può provare crescendo e cercando di sfondare come sceneggiatori in questo caso di film per quanto riguarda Ruth ma anche nel mondo dei fumetti per quanto riguarda le autrici medesime. Devo dire che la sottotrama del fatto che Sandra sia appunto un personaggio creato dalla mente di Ruth e abbia una personalità propria, una personalità che aiuta Ruth a combattere per quello in cui crede, mi è piaciuto, ma devo dire che forse mi sarebbe piaciuto di più se non fosse stato messo del calderone dell'omaggio alla morte in palio. Ecco, io forse dato che il concetto del personaggio che prende vita dalla carta stampata e in questo caso commette omicidio addirittura gioca con la morte per vendicarsi delle persone che hanno fatto del male a Ruth, mi è piaciuta molto ma l'avrei fatto senza citare così tanto Partita con la morte. Già Partita con la morte è molto bello come numero, citarlo, omaggiarlo è stato molto carino, ma avrei comunque come dire, mi sarebbe piaciuto vedere una sorta di assassino che fa giustizia della persona che lo ha creato, quindi è strano al contesto citazionistico, anche perché in questo modo è come se si fosse in un certo senso ingannata la morte. Altresì, mi sarebbe piaciuto vedere l'inganno alla morte con questo personaggio di Sandra che in un certo senso si spara per stare in bilico tra la vita e la morte e giocare la stessa partita che aveva giocato il protagonista del numero 66 dovendo sacrificare persone che lui conosceva, però qui è chiaro che Sandra vuole sacrificare apposta persone che lei detesta, vuole apposta approfittare di questa partita con la morte per sacrificare le pedine che lei vuole, quindi in un certo senso si sta approfittando della morte, questa cosa mi è piaciuta molto, però diciamo che c'è questo carico di briscola del fatto che lei non è proprio un personaggio reale, insomma, mi sarebbe piaciuto vedere tutto quello che ho visto qua ma in due storie distinte, ciò non toglie che il numero l'ho gradito, devo dire che l'ho iniziato un po' a rilento nel senso che appunto all'inizio mi sembrava che ci fosse un timelapse, non ho capito bene cos'era successo, poi quando ho preso bene piede l'ho letto ad un fiato, mi è sembrato addirittura che fosse stato fin troppo veloce la lettura, questa è una mia impressione a caldo, sicuramente mi sarebbe piaciuto se avessi avuto più tempo parlarne con più calma, magari rileggermi anche partita con la morte e poi rileggere la morte in palio, eventualmente ci può scappare una live insieme a fine mese in cui quando avrò letto entrambi prima che esca il prossimo numero potremmo un po' parlare insieme delle due cose, però per ora devo dire che mi ha soddisfatto, sono contento, non lo so, devo dire che ultimamente io con Dylan sono stato abbastanza cattivo, l'ho ripreso un po' nell'ultimo numero dove addirittura mi hanno detto che sono stato troppo buono, sicuramente anche in questo caso vedrete, mi diranno che sono tornato a essere fin troppo buono, scrivetemi qua sotto voi cosa ne pensate, in ogni caso fatemi sapere se vi può interessare una live su Twitch in cui ne parleremo insieme proprio io con voi con la chat, intanto vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci poi vorrei sapere se Porretto e Mericone sono due persone o in realtà è una e l'altra è parto dell'immaginazione che era questo che volevano dirci che lo so ritorno